Il gol del vantaggio lo segna Kevin Grosskreutz, prima a rete in carriera per lui, poi Patrico Vomoyela. Nel deserto della difesa del Norimberga si muove Lucas Barrios para Alexander Stefan, che non è troppo fortunato. La palla carambola su Barrios, sesto gol per l'argentino, che poi insiste, c'è ancora la parata di Stefan, ma è pronto Mohamed Zidane a realizzare il suo secondo gol in questo campionato. Tutto facile per il Borussia Dortmund, ancora Vomoyela, la parata di Stefan, questa volta il più pronto sulla respinta.